Mi sono appunto con quella pianta di... Agua Ciao a tutti ragazzi, sono i miei luchiri, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video Mi è arrivato un pacco ed ho aspettato voi per aprirlo Questo è il mio pacco Allora, io credo di sapere che cos'è Anche se sto aspettando più di un pacco Sto aspettando 4 pacchi da Wish e un pacco da Amazon Questo credo sia il pacco di Amazon Anche perché Wish in genere manda i pacchettini microscopici Ma andiamo a vedere cosa c'è qui dentro Andiamo ad aprire il pacco onafobico Sì Ma sì, è proprio quello che stavo aspettando! L'oggetto che ho ordinato sono dei bellissimi anelli da palestra, visto che voglio diventare come gli unicchietti, forse sono un po' più alto, anzi senza forse, ho ordinato dei bellissimi anelli da esercizio. Magari per tonificare un po' questo corpo che sta decadendo pian piano e che non finisce di lievitare come un pandoro bauli, allora ci vuole un po' di movimento e visto che sono abbastanza sfaticato e non mi piace molto correre, non mi piace andare in palestra, a me piace mangiare, ragazzi! Qualcosa devo pur fare, quindi ho deciso di ordinare gli anelli dagli uricchietti, ma adesso prima di andare a montarli ci vuole un abbigliamento adeguato. Andiamo a cambiarci! No, direi che non va bene. Direi che così va decisamente meglio. Ora non ci resta altro che capire come appenderli e andare a provarli. No, direi che così va bene. aia! Ragazzi scendendo giù da questa scala diciamo che mi sono punto tutto il sedere con questa pianta maledetta. difatti dovrò tagliarla perché se vengo qui a fare esercizi ho due bei spuntoni sotto il sedere. e non va bene. No, reggere sembra che reggano. direi di sì. aia! 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 L'operazione è andata a buon fine! Beh, mi credete se vi dico che è veramente faticoso. Sono quasi quattro anni che non faccio nulla in palestra e devo dire che i primi tre minuti di anelli mi hanno già sfiaccato. Sarà il caldo, sarà non so cosa, ma non ne posso già più E quindi bevo un attimo un goccino di succo Ragazzi, se volete vi do la ricetta Questo è un succo alle pesche buonissimo, naturale, fatto in casa, ovviamente con i bimbi Ingredienti, acqua, zucchero e pesche Più sano di così non si può Buonissimo Ragazzi, questo video finisce qua Io vi ringrazio per la visualizzazione ragazzi Se il video vi è piaciuto mi raccomando spoliciate su like Se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale Attivate la famosa campanellina per non perdere alcune news e alcun nuovo video in uscita Ragazzi, è tutto Io vi mando un bacione e vi aspetto al mio prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.